Il suo curriculum internazionale prende l'avvio dal 1995 con le giornate olimpiche di Bath, ottava al concorso generale e alle parallele. Poi da allora veramente un crescendo con una medaglia d'argento ai campionati europei di Birmingham nel 1996 e al corpo libero. Sì, bene fino a questo momento Adriana è entrata con flick salto dietro, con doppia vetamento in mezzo e salto avanti. Nella prima diagonale mi sembra che abbia l'intenzione di rifarsi e di togliersi la soddisfazione di conquistare questo titolo. Ecco, forse qui doveva inserire un'altra difficoltà, si è accontentato dal solo salto teso. Ecco, un titolo che qui lo scorso anno però non riuscì ad avere proprio per una caduta, per una imperfezione dopo una diagonale acrobatica. Sì, quello è soltanto l'imprevisto magari di quel momento di gara e in quel caso lì poi ha lasciato il posto a Laura Montagnolo che saluto cordialmente perché si sta riprendendo da quelli in Fortunio che dicevo prima e Adriana adesso sta senz'altro terminando il suo esercizio sempre con particolare brillantezza. Ultima diagonale, rondata, doppio carpiato, un passetto. Grazie a tutti.